Si è conclusa ieri a Mazzara del Vallo la 66esima giornata nazionale del ringraziamento. Un appuntamento partecipato, ricco di momenti di riflessione, di condivisione, di approfondimento, anche rivolto al tema dedicato sia i beni della terra più in generale, grazie anche alla presenza della Coldiretti nazionale. Un bel momento di incontro e di riflessione che mette ancora una volta al centro, anche attraverso il messaggio della CEI e dei nostri Vescovi, la centralità dell'agricoltore e dell'agricoltura. E in questo l'agricoltura italiana è un'eccellenza, un'eccellenza rispetto alla sostenibilità delle coltivazioni, rispetto alla capacità di curare l'ambiente, rispetto alla capacità di coltivare qualità e sicurezza alimentare, rispetto alla capacità anche di aiutare e dare un contributo allo sviluppo dei territori attraverso l'occupazione delle persone. Il messaggio che la Coldiretti oggi porta a Mazzara del Vallo è quello dei colori, giallo-verde, quello dei sapori e quello delle eccellenze che la nostra Sicilia produce. Siamo stati graziati, visto che il 2015 è stato l'anno dell'enciclica di Papa Francesco, che è stato l'anno dell'Expo Nutri del Pianeta e quindi la centralità dell'agricoltura oggi viene premiata ed apprezzata. Noi godiamo di condizioni pedoclimatiche che il mondo ci invidia e tutto ciò oggi la Coldiretti lo dimostra. Nell'anno che l'Assemblea dell'ONU ha voluto dedicare ai legumi, i vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro nel messaggio per la giornata hanno allargato lo sguardo ad un ampio orizzonte legato alla produzione e al consumo del cibo, come la rivalorizzazione dei mercati locali, l'inclusione di soggetti socialmente deboli o svantaggiati nell'agricoltura sociale, le iniziative per la legalità e il recupero nell'attività agricola dei terreni confiscati alle varie mafie, l'impegno per la trasparenza nell'informazione ai consumatori. Sì, due giornate che ci hanno portato a confrontarci sui problemi di oggi del mondo dell'agricoltura, sull'attenzione ai semi e la importanza che hanno sia nell'alimentazione che nell'uso e nella fruizione delle risorse e anche il momento di ringraziamento a Dio per i doni che ci ha fatto in questa splendida giornata in cui il grazie sgorga spontaneo dal cuore. Durante la Santa Messa celebrata in cattedrale, tutti i presenti hanno potuto vivere le emozioni dell'Angelus o del Papa rivolto proprio a questa giornata. Dio non ci lascia mai soli, ha detto il Santo Padre, Dio non lascia mai soli i Suoi figli. E in questa giornata rivolgo un pensiero ai protagonisti, unendomi al messaggio rivolto dalle diocesi di Trapani e di Mazzara sull'agricoltura e al lavoro l'importantissimo dei nostri fratelli agricoltori affinché sia sempre di più un'agricoltura sostenibile che rispetta la natura e i nostri beni più preziosi come la terra e l'acqua. Chiedo a ciascuno di voi di andare avanti superando ogni difficoltà anche con il proprio lavoro, di dedicarsi al lavoro e all'impegno quotidiano che deve sempre farci da guida. La messa celebrata nella cattedrale di Mazzara del Vallo è stata ripresa integralmente dalle nostre telecamere con il nostro staff che ha garantito la proiezione dell'Angelus di Papa Francesco durante la funzione religiosa sui maxi schermi appositamente posizionati dentro la chiesa. La due giorni, sia a Trapani che a Mazzara del Vallo, è stata ininterrottamente seguita da Telesud con interviste e riprese integrali per fissare l'attenzione sui protagonisti e l'importanza dell'evento. La messa di domenica sarà trasmessa da Telesud mercoledì sera alle 21 ed in replica alle 23. Al termine della messa la benedizione sul lungomare dei mezzi agricoli schierati per strada.